In una settimana i casi covid in Sicilia sono aumentati di oltre il 60%, un dato preoccupante contenuto nel report della protezione civile regionale sulla incidenza della pandemia nella nostra isola. Nella settimana che si è conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 11.508, valore che è più alto del 66% rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrato un sostanzioso aumento dei contagi. Con riferimento ai casi che sono stati testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 28,9%, dato che è senza dubbio altissimo. Il numero degli attuali positivi è pari a 41.506, che è il valore più elevato dall'inizio della pandemia, mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 40.033, ha visto un aumento di 5.763 unità rispetto alla settimana scorsa. I ricoverati sono 1.473, di cui 208 in terapia intensiva, che rispetto alla settimana precedente sono aumentati di ben 152 unità. Diminuisce invece la percentuale dei guariti, 63.821, in crescita a 5.359 unità rispetto alla settimana precedente e la percentuale è pari al 59%. È di 2.728 il numero dei deceduti, che è aumentato di 234 unità rispetto alla settimana precedente. Significativo il dato riscontrato in provincia di Siracusa, dove il numero dei nuovi positivi ieri ha raggiunto quota 201, praticamente dall'inizio della pandemia e la curva più alta registrata sul territorio. Intanto, tre suore del convento delle suore dominicane di Palazzola Crede sono risultate positive al Covid. Mentre per due di loro il quadro clinico è tutto sommato non grave, adesso si trovano in isolamento, per una terza monaca è stato necessario il ricovero in ospedale. Sono stati avviati gli approfondimenti per verificare quante persone siano entrate in contatto con le sorelle. A Palazzola Crede sono otto i positivi, come confermato dal sindaco Salvatore Gallo. Oltre alle tre sorelle risultano positivi al Covid. Un medico è un ausiliario del 118, ma nessun focolaio, per fortuna.